ciao a tutti bentornati sul canale di eclettica gdr io sono roberto e per una volta oggi non ci sarà uno sguardo a e quindi una recensione ma vorrei illustrarvi uno stile di gioco che in italia è ancora poco conosciuto e poco diffuso ma che secondo me merita di essere divulgato che è l'fkr ovvero la free crystal revolution il cui motto è giocamondi non regole questo serie di gioco è nato dal movimento sr da parte di alcune persone che hanno portato all'estremo un po la lezione dell'osr e vedremo poi come ma si sono focalizzati sul gioco ultra minimale dandosi comunque dei principi quindi non lasciando la fantasia al potere e comunque almeno come presupposto come insomma come proclama cercano di rifarsi a una tradizione molto antica il nome krispil non è scelto a caso ma ha un peso e il krispil che cos'è il krispil è semplicemente il termine con cui i tedeschi identificano il war game e quindi le simulazioni di guerra fate con tabellone e con blocchetti che rappresentano le unità è nato in prussia nel 1824 il primo regolamento risale a quell'anno ad opera del colonnello o generale adesso non mi ricordo se il grado von reswitz tipicamente il krispil storicamente aveva questa forma qui che richiama molto addirittura comunque anche i war game attuali nel senso che c'è il tabellone topografico che rappresenta il territorio su cui avvengono le battaglie ci sono dei blocchetti di legno nel krispil classico prussiano che rappresentano le unità e che quindi hanno delle informazioni basilari questo richiama molto i cheats degli appunto dei cheats in ex quindi i board game di guerra che erano molto popolari negli anni 60 e 70 e che ancora adesso hanno un loro seguito anche se forse sono andati un po a perdersi come come hobby di nicchia ormai e come vedete anche sulla destra dell'immagine ci sono dei dadi speciali che rappresentano che permettono avere dei risultati particolari rispetto al regolamento poi il regolamento in sé presenta estensive tabelle per simulare dei risultati sulla base di vari variabili che rientrano in gioco tra cui chiaramente visibilità terreno forza d'attacco e quant'altro è molto particolare vedere come un krispil è un board game in tutto e per tutto e chiaramente questo sito di gioco che è filtrato poi nel board game ludico e a sua volta poi è entrato nel filone del gioco di ruolo perché comunque in origine i primi giochi di ruolo erano essenzialmente dei board game individuali con regole di esplorazione ecco a parte il tabellone topografico e i blocchetti segnaposto la l'introduzione più particolare del krispil è la figura del dell'umpir ovvero l'arbitro di gioco e come funzionava questa figura siccome si simulava effettivamente un addestramento per ufficiali quindi si simulavano delle battaglie i giocatori erano questi ufficiali quindi avrebbero scritto gli ordini alle proprie unità su un bigliettino questo bigliettino nella simulazione veniva consegnato alla all'umpir che sulla base delle condizioni varie del regolamento e anche della sua esperienza personale aggiudicava quindi dava il risultato di queste decisioni e egli stesso sarebbe poi stato la persona incaricata di muovere i blocchetti o rimuovere le carente a seconda delle condizioni di battaglia e per questo l'umpir gestiva anche la nebbe di guerra generalmente queste giocate avvenivano cioè il tabellone era a disposizione dei giocatori però gli ordini avvenivano appunto attraverso il formato scritto e quindi non c'era un vero e proprio dialogo al tavolo tra i giocatori ma era multidirezionale ma monosenso rispetto all'umpir cioè ogni giocatore consegnava questi ordini e poi la risoluzione avveniva a completa discrezione dell'umpir che chiaramente nel formato più classico come dicevo si atteneva un regolamento molto anche minuzioso tant'è che a un certo punto dopo una cinquantina di anni che questo stile di gioco aveva preso piede e aveva anche dato degli risultati effettivi sul campo di battaglia perché le campagne prussiane dell'utacento dimostrano come questo addestramento simulato abbia prodotto dei risultati eccellenti tuttavia man mano che si sviluppava questa forma di simulazione le regole aumentavano e diventavano sempre più minuziose e anche difficili da amministrare e tant'è che a un certo punto clemens william e giaco mechel che ha un altro ufficiale prussiano nel 1873 stilò un elenco di quattro punti che lui riteneva critici all'interno del cricpil tra virgolette rigido cioè la prima era regole che vincono l'umpir impedendogli di poter apportare il contributo della sua esperienza quindi si guardava soltanto il regolamento e si lasciava perdere il contesto addirittura l'esperienza dell'umpir che era comunque un ufficiale di grado e con un'esperienza sul campo e quindi riusciva a inferire delle regole al di là del regolamento perché era la sua stessa esperienza che gli dettava come coprire i buchi del regolamento e poi appunto le regole erano troppo rigide per modellare realisticamente tutti i possibili esiti c'erano dei buchi e però non ne ha permesso all'umpir di riempirli e i calcoli e poi l'altra critica era che i calcoli per le perdite rallentano il gioco e hanno un impatto minore su decisioni di un giocatore e soprattutto l'ultimo punto è che pochi ufficiali erano disposti a fare lo spazio di imparare le regole è incredibile come nel 1873 abbiamo a riguardo di un regolamento minuzioso che cerca di coprire di coprire simulazionisticamente tutte le possibili casistiche esattamente le stesse problematiche le stesse critiche che sono emersi più di cent'anni dopo con il gioco di ruolo cioè è questa è una cosa che a me ha stupito tantissimo è come se fossimo in un ciclo di eterno ritorno per cui la qualche lezione del passato noi siamo riusciti a dimenticarla perché chiaramente qui è rimasta sepolta in qualche trattato di regolamenti simulazionistici di guerra dell'ottocento e quindi weiler barriera linguistica perché questo materiale in tedesco a sua antichità non ha permesso di studiarli a dovere adesso stanno riemergendo c'è tutto un apparato eseggetico di questa anche della parte di critica a quei regolamenti e a me ha stupito tantissimo leggere le quattro criticità di mail e scoprire che sono esattamente gli stessi problemi e le stesse critiche che sono state mosse a partire dagli anni 80 soprattutto negli anni 90 ai giochi di ruolo esattamente esattamente quasi le stesse soprattutto la parte sui calcoli che rallentano il gioco sull'impossibilità che le regole troppo rigidi riescano a simulare veramente la realtà e poi incredibilmente già nell'ottocento i giocatori non erano disposti a ripararsi le regole quindi era tutto sulle spalle del non pier come adesso molto spesso sulle spalle del master è incredibile tre anni dopo a un certo punto julius von verdi in duvernois che penso di aver pronunciato malissimo scusate e non sono un grande esperto di tedesco propone una risposta radicale a questo irrigidimento il frei krispil al free krispil a seconda di come lo vogliamo pronunciare chiaramente e essenzialmente dice rinunciamo completamente alle regole agli strumenti che abbiamo e lasciamo all'arbitro la libertà di condurre il gioco a sua completa discrezione perché sarà la sua esperienza e di gioco a permettere la risoluzione migliore possibile delle regole che ricordiamo sempre sono consegnate sul bigliettino a questo non cambia in tutta la vita il ciclo vitale del krispil tedesco ecco è una proposta radicale c'è ancora adesso penso che pochi sarebbero disposti a seguire questo consiglio su dei giochi di ruolo eppure il free krispil ha un seguito a successo e si contrappone al krispil tedesco perché ho fatto questo inquadramento storico che sembra slegato a parte le attinenze in analogia col gioco di ruolo moderno ma per due motivi il primo l'ho già detto il il gioco di ruolo discende in qualche modo da questo perché discende dai wargaming il wargaming discende dal krispil e buona parte della cultura anche se in modo ludico è stata importata e discende appunto dal 1824 in in su o in giù a seconda della linea temporale verso chiaramente la definizione del gioco di ruolo poi c'è sicuramente un discorso di rievocazione storica perché come vedremo è programmaticamente richiamato la questione del free krispil dagli autori moderni del movimento fkr proprio per per la sua storicità quindi l'attenzione da ultimo aggiungerei non è noto a tutti quanti su questo abbiamo già speso parole in altra sede e quindi non vorrei ripetermi se non in poche parole ma dungeons and dragons che ha buon diritto storicamente si può considerare il primo regolamento gdr mai pubblicato discende da delle campagne di david arnason e david arnason era amico di david wesley david wesley era un studente universitario che prima di partire per le sue per il suo servizio militare aveva scovato un regolamento chiamato strategos dell'effena dell'ottocento americano e stati cosa e era una riduzione in inglese dei regolamenti krispil david wesley prende stati gus lo rielabora e che a branstein branstein è il primo storicamente riconosciuto proto gdr mai di sito quindi a linea discendenza esiste latinenza esiste quindi fare un piccolo richiamo storico secondo me era doveroso ma appunto c'è questo proclama che il fkr sia gioco arnasoniano allora su questo apro una parentesi molto breve ma doverosa è indubbio che anson era una persona che non aveva un regolamento fisso in mente né scritto utilizzava un sacco di blocchi di appunti sperimentava approcci nuovi però è opinabile fortemente che gestisse completamente le proprie campagne in modo fkr inteso in senso moderno cioè ultra minimale e sulle spalle del dell'arbitro e dei darne sonna probabilmente invece gestiva proprio il proprio regolamento anche se era molto utile voleva però è indubbio che wesley e arnason allevaron tra virgolette la prima generazione di giocatori di ruolo e uno di questi mike mollard sul forum o dnd site in force che sarebbe fuori che è uno degli storici punti di riferimento dei grognar che giocavano original dungeons and dragons e anche dei giocatori che non hanno mai smesso di giocare quel gioco e quindi si scambiano opinioni regolamenti house rules e quant'altro su questo forum che è ancora attivo anche se chiaramente data d'età dei partecipanti e anche l'avanzare dei social media ora è forse un pochino più abbandonato ecco però qualche anno fa mike mollard lanciò questo topic questo thread sul forum chiamandolo free krispill renaissance e che cosa diciamo è una buttata è uno scherzo non è da prendersi sul serio però lo cito perché ha un impatto lui diceva non sono ora ne sono mai stato parte dell'old school renaissance cioè lui si chiamava fuori questo perché semplicemente non ho mai smesso di giocare come sempre fatto non c'è stata alcuna nascita questo è un punto di vista personale di mona che dice io c'ero quando ancora non era stato neanche pubblicato dnd quindi per me non esiste una renaissance io ho sempre giocato quel gioco in quel modo tuttavia una delle basi di branstein come ho detto il proto gdr di wesley poi black moore poi greyhawk le due campagne quella di arson e quella di gai gex che hanno fatto da prototipo a dnd era il concetto di free krispill dove il giudizio dell'arbitro è l'autorità suprema non un insieme di regole scritte cioè dice l'approccio era che la parola finale era quella dell'arbitro di gioco non ci si riferiva al regolamento scritto perché quello non era stato neanche scritto perché dnd è stato pubblicato dopo e quindi era chiaro che l'autorità regolamentare era dell'arbitro e solo dell'arbitro questa bella tradizione si è quasi del tutto estinta ha un disperato bisogno di essere portata in auge pertanto annunci il lancio della free krispill renaissance o fkr ed ecco qui che nasce in questo momento l'acronimo fkr e si pronuncia esattamente come pensate quindi forza diventiamo un gruppo di allora chiaramente questo è uno scherzo però è importante questo passaggio questo piccolo post che poi si esaurisce in pochissime battute nel thread e si esaurisce in pochi giorni però ha lanciato un meme a sua insaputa ha lanciato l'acronimo fkr che viene prontamente poi ripreso nel 2019 da norbert matausch che è un autore tedesco con una storia dietro le spalle di gioco di lunghi anni e di pubblicazione su das war das war auge che da noi è uno sguardo del buio che tra l'altro è un regolamento di quelli particolarmente minuziosi matausch ha scritto una serie di giochi ultraminimali di varia natura di vari generi compreso il cyberpunk è stato famoso per qualche anno nei circoli online per aver fondato scusate scritto minimal di six che ha poi è gemmato in vari hack quasi una trentina ma a un certo punto decide di portare estrema conseguenza questa questo minimalismo e fonda la free chrispelle revolution lui la chiama riprendendo il l'acronimo di monard fkr apre un server discord e lì si raccoglie si crea una comunità di giocatori di ruolo che gira attorno appunto alla massima che ha messo inizio giocamondi non regole è la fkr una costola dell'osr nel senso che la maggior parte delle persone partecipanti alla comunità fkr vengono dal mondo asr semplicemente persone che si sono stancate di dover fare bookkeeping farsi il riferimento a regolamenti minuziosi dopo tanti anni di esperienza e di chiaramente anche confidenza con certi tipi di modi fittizi eccetera eccetera preferiscono alleggerire il comparto regolamentare e affidarsi a un arbitro questo però è possibile soltanto con un'altissima fiducia nell'arbitro in questo stile l'arbitro è tra virgolette imparziale per quanto possa essere è un arbitro completamente giusto cioè somministra i risultati sulla base di quello che i giocatori descrivono di come agirebbe l'ambiente ma non è qualcuno che pilota quell'ambiente ad andare contro i personaggi questo chiaramente c'è già nell'osr qui è ancora più fondamentale perché le regole sono talmente poche solitamente è soltanto la risoluzione di base del conflitto e molto spesso che la risoluzione di base è due di sei contrapposti e quindi non c'è soltanto per gestire la casualità e dare un minimo appunto di probabilità di insuccesso anziché semplicemente risolverlo diceless però l'fkr nella maggior parte dei casi è gestito come un argomento diceless inferendo le regole dal contesto del mondo di gioco e per questo l'fkr richiede un patto sociale fortissimo molto più forte di quello dell'osr e cosa che non ho messo a entrare nel punto elenco ma l'fkr presuppone che tutti i giocatori al tavolo a parte essere d'accordo appunto da affidarsi del loro si condividano la conoscenza del mondo di gioco perché non essendoci regole quelle vanno desunte dal mondo stesso e quindi l'fkr è ottimo per un gruppo affiatato che voglia giocare l'x mondo che conosce molto bene preso dalla letteratura, preso dal cinema, preso dalla televisione non importa l'importante è che l'arbitro lo conosca bene ma anche i giocatori che non contassero le scelte fatte sulla base appunto di come si comporterebbe quel mondo di gioco per fare un esempio sapendo che in un mondo di gioco i goblin attaccano senza farsi problemi sto inventando la regola sul momento non ci sarà alcun dubbio che questi appena vedono i personaggi attaccano non c'è bisogno di fare tiri di morale altri tiri di supporto per decidere che loro attaccheranno attaccheranno a vista altro esempio che faccio io perché è un telefilm che ho molto amato da ragazzino e mi resta bene molto bene in mente Buffy the Vampire Slayer Buffy l'ammazza vampiri in quel mondo di gioco i vampiri si polverizzano al sole o conficcando un paletto o incendiandoli poi i più anziani in realtà tra questi sono più resistenti quindi prendono di più a morire con il sole e con il fuoco e servono paletti molto più grandi per ucciderli i demoni si uccidono con i coltelli ecco, non c'è, dicono gli FKR, un bisogno di avere un regolamento per dirti questo tu lo sai perché il mondo di gioco lo conosci bene, è condiviso e quindi come si comporterà il vampiro di Xanni piuttosto che quell'ultracentinaia, piuttosto che il demone e come lo ammazzo dipende semplicemente da come è stato impostato il mondo per questo appunto ti dicevo, poche regole meccaniche ed è portato all'estremo la decisioni non regole, il ruling dell'arbitro per poter gestire il tutto poi ci sono alcuni slogan barra principi il primo che abbiamo già ripetuto, giocamondi non regole i numeri non danno valore al gioco quindi non c'è bisogno di fare particolari tiri e che questi abbiano una matematica complicata per dare casualità al tutto e se la narrazione si adatta a prova è l'estrema conseguenza di come si fa già nell'OSR cioè non ho bisogno che il regolamento mi dica che posso fare questo e quello se nel contesto posso provare, provo e poi sarà l'arbitro a dare le conseguenze delle mie scelte senza che debba prima fare un tiro per determinare se faccio o non faccio un'azione riassumendo, come dice Jim Parkin l'FKPR suggerisce che il mondo è un luogo reale i giocatori e personaggi possano agire in qualsiasi modo che interagisca ragionevolmente con l'ambiente fittizio e che i concetti narrativi prevalgono su numeri e astrazioni John Ross, l'autore di RISUS riassume questo meravigliosamente con il termine infinità tattica l'infinità tattica è la possibilità da parte di un giocatore di fare qualsiasi tentativo nel contesto in cui agisce il personaggio una rapida carrellata dei regolamenti FKPR almeno i più, tra virgolette, famosi The Unshot Rules di Norbert Matasche come abbiamo visto il fondatore del movimento è un semplicissimo regolamento in cui, come dicevo, la risoluzione meccanica avviene D6 contro D6 i personaggi hanno 3-4 punti ferita o colpi, come si chiama in questo regolamento e semplicemente si aggiudica il combattimento o il conflitto o qualsiasi restituzione tirando i 2 D6 e prevale la posizione di chi ha vinto il tiro poi dà dei suggerimenti in linea guida per poter convertire da giochi più complessi e famosi verso l'Handshot la generazione dei personaggi è descrittiva cioè si scrivono poche parole chi descrive il personaggio, fine queste verranno applicate nel mondo di gioco se no c'è questa grafica sempre di Matasche ma il regolamento, tra virgolette perché il regolamento è arduo a chiamarlo visto che sono 4 righe di istruzioni è del famigerato o ormai purtroppo da quello che è emerso questa primavera Mark Baker, cioè l'autore di Empire of the Beatles Throne e che però si è scoperto essere stato purtroppo per anni un sostenitore dei neonazisti americani e mi duole ammettere che purtroppo l'FKR in parte nei suoi padri nobili tra virgolette putativi Barker, ma Matasche stesso è un conservatore omo-transfobico Jim Parkin purtroppo dal mio punto di vista purtroppo non voglio dare giudizi ma dal mio punto di vista purtroppo è un cristiano biblico con tutto quello che comporta a volte sono stati anche purtroppo ripresi per comportamenti molestri nella comunità per cui il genio purtroppo non segue sempre la qualità morale delle persone è perfetto ed è semplicissimo e come prima nel line shot si tirano dei dadi se faccio più alto preparo la mia decisione altrimenti viceversa e se è pari ci si mette d'accordo molto semplice 24XX che abbiamo già visto abbiamo visto 2400 di Zezontocchi 24XX è semplicemente l'SRD spolpa tutte le meccaniche non mi ripeto perché vi rimando al video che abbiamo pubblicato qualche settimana fa Master Spiel di Oz Browning anche questo è un gioco che riduce all'osso completamente all'osso le meccaniche di Blaze in the Dark di John Harper tra l'altro rilasciato come 24XX sotto licenza attribuzione 4.0 quindi massima libertà di acchiararlo Revenant Hack di Sigve Solvag che è un personaggio importante perché ha fondato una comunità costola dell'FKR cioè non trovandosi in accordo con la visione tra virgolette conservatrice dei fondatori del server ha fondato FKR Collective che è la mano tra virgolette socialista dell'FKR e poi ci sono altri esempi come pura Premival D6 Note Rules e Amazon Gaming come stavo dicendo le comunità essenzialmente in questo momento sono due sono anglofone entrambe FKR che è quella di Mantausch e FKR Collective che è quella di Solvag a vostra discrezione quale frequentare in FKR chiaramente ci sono ogni tanto certe uscite che possono far starcire il naso a persone che lo pensano come me in FKR Collective potrebbero far starcire il naso a qualcun altro entrambe le comunità pubblicano delle riviste delle zin che sono entrambi in questo momento sospese però sono già usciti alcuni numeri di entrambe quindi il materiale da carpire ce n'è e poi in italiano e in inglese ci sono una pletora di articoli scritti da tutti i personaggi che abbiamo citato finora molto spesso questi articoli erano più di chiarimento personale quindi come una ricerca in fieri della persona che cerca di chiarirsi in testa le idee sulle FKR però abbiamo pubblicato Cyclotica GDR un articolo che richiama essenzialmente il canovaccio che abbiamo visto in questo video ma se volete approfondire l'articolo sicuramente va più in profondità e poi abbiamo tradotto con il permesso di Jim Parking come praticare un gioco ultraleggero in cui spiega operativamente come lui conduce un gioco FKR in Italia allora quando ho pubblicato con Cyclotica GDR l'articolo di cui parlavo sopra Freaking Speed Regolution sul nostro blog le reazioni sono state io non mi sarei aspettato ma più che tiepide perché l'interesse c'è stato c'è stato un po' di pregiudizio culturale su questo stile di gioco per come veniva descritto nel mio articolo perché è stato citato il famoso Parpuzio che io non sapevo neanche cosa volesse dire perché mi sono perso quella fase della comunità GDR italiana e io vorrei sottolineare una cosa il fatto che il tavolo come insieme di persone sceglie di dare fiducia all'arbitro non vuol dire che questo arbitro possa abusare di questa di questa fiducia e questa è la differenza grandissima rispetto a uno stile di gioco in cui i giocatori pendono dalle labbra dell'arbitro che non è un arbitro in quel caso ma arbitro non è una parola a caso arbitro è arbitro non è game master game master si porta un brutto bagaglio culturale molto spesso vero purtroppo di storia e di abusi di potere da parte della persona ma anche di passività da parte del tavolo in un FKR non potrebbe funzionare non può funzionare un FKR se i giocatori non sono proattivi e non provano ad interagire col mondo e non funziona se l'arbitro non è investito dell'autorità di avere l'ultima parola ma in modo equo non in modo abusivo e comunque ad oggi era uno stile poco conosciuto e per questo anche per questo ho scritto l'articolo e oggi sono qui davanti a voi a presentarvi questo video in ultimo proprio perché voglio dare una botta se possibile a questo stile ho scritto Ghislava un gioco ultra minimal in Sile FKR ecco ci sono vari motivi sul titolo scelto e sul fatto che l'ho pubblicato in italiano allora Ghislava non è niente di fondamentalmente nuovo riprende molte idee che abbiamo visto molte idee dalle regolamenti che ho illustrato sopra e è il primo regolamento FKR in italiano quindi spero che sia un buon riferimento è completamente modificabile acchiarabile l'ho rilasciato volutamente in pubblico dominio quindi non voglio neanche essere attribuito avete la piena libertà di farci quello che volete anche dimenticarvelo se volete ovviamente però ho voluto chiamarlo Ghislava perché faccio un proclama ovviamente politico io mi dissocio dalla linea conservatrice omotransfobica dei fondatori dell'FKR soprattutto di Mataosh e di Parkin e con Ghislava un titolo scelto non a caso anche per scherzo chiaramente io mi riferisco a una certa cultura politica e è tutto voluto e quindi sapete benissimo adesso come la penso è consultabile via web all'indirizzo tinyhurlo.com slash Ghislava GDR comunque poi pubblicherò anche queste slide con tutti i link disponibili anche per consultare i materiali linkato e sul sito web trovate la versione che è consultabile sulla pagina e poi potete scaricare il pdf stampabile in formato opuscolo allora secondo me l'FKR ha dei presupposti forti soprattutto altri presupposti forti per essere giocato richiede le persone giuste il giusto tavolo la giusta mentalità però è uno stile che ha dignità pari agli altri e sarebbe secondo me superficiale targarlo come il gioco a parpuzio scusate però non è corretto liquidare l'FKR semplicemente come giochiamo scusate francesi ma cazzo non è così richiede molta più esperienza da parte dell'arbitro non è un caso che è una specie di reazione che viene a certi arbitri dopo 30-40 anni di gioco e che si sono fatti la loro esperienza e ha assolutamente ribadisco dignità di esistere e anche di essere provato quindi se vi ha sollicato questa presentazione e voleste provarlo prendete uno dei regolamenti che vi ho detto prendete il vostro libro preferito il vostro film preferito il vostro film preferito fatelo la vostra ambientazione usate quello che sapete di quell'ambientazione per gestire la maggior parte delle regole contestuali e poi utilizzate la breve risoluzione per gestire i conflitti di cui non potete non potete determinare una risoluzione soltanto inferendola dal mondo di gioco io vi ringrazio per l'attenzione anche oggi vi ricordo ecletica gdr abbiamo i link in descrizione su link tree trovate tutti i riferimenti a chat telegram e a nostra pagina instagram a nostra pagina facebook e chiaramente al nostro blog su cui pubblichiamo articoli recensioni e quant'altro vi ringrazio per l'attenzione alla prossima video per l'attenzione